Benvenuti nella versione con commento dell'adattatore, cioè me, di Il ladro e il ciabattino. Ovviamente se state cercando il film completo lo trovate sempre sul mio canale, metterò il link in descrizione in modo che non ve lo perdiate, perché ovviamente non è il caso di vedere per primo la versione in cui ci sono io che parlo sopra tutto quanto il film per parlare di quello che vedete, ok? Devo dire di non credere ancora al fatto di aver lavorato l'adattamento di questa meraviglia. Tra l'altro cose come il logo, questo logo animato è stato fatto da tutti quanti i miei amici perché abbiamo fatto tutti quanti l'artistico e poi abbiamo fatto concept art oppure arte di vario tipo o l'accademia di Brera, voi non avete idea di quanto io sia emozionato anche solo all'idea di esserci riuscito. Credo che capiti anche voi di cercare di portare avanti un progetto e poi mollarlo a metà perché le cose iniziano a farsi complicate e sono sorpreso del fatto che non sia successo, anzi sono riuscito ad essere abbastanza determinato. Ma ora passiamo direttamente a parlare del film, ok? Questa sequenza del narratore ha avuto un grossissimo problema con la questione dell'audio perché non so se sapete ma ovviamente tutto il film arriva da una pellicola, una pellicola di un film che non è ancora completato. Per esempio le dita del narratore in queste scene dovrebbero muoversi, tra l'altro sono state animate da Ken Harris, grandissimo animatore della Disney e io avrei tanto voluto sinceramente avere modo di completare questa animazione ma si tratta di qualcosa di complicatissimo che non va assolutamente fatto dopo la morte del creatore, ve lo posso assicurare. Dunque, la colonna sonora, essendo tutto quanto su pellicola, è rimasta abbastanza rovinata e per alcune scene come quella del narratore fortunatamente ho avuto il contributo di qualcuno che mi ha effettivamente aiutato a restaurarla. Quindi sapete che trovate in descrizione anche chi ha fatto questo pezzo di colonna sonora che purtroppo andava rifatto in digitale. Il narratore è Riccardo Riccobello, che forse avete conosciuto per Dragon Ball Zia Bridge sul canale che lo ha doppiato in italiano e vi posso assicurare che lui è un grandissimo narratore, legge audiolibri e quando ho sentito la sua voce ho capito che doveva essere lui a fare il narratore. Inizialmente pensavo di farlo fare a Maurizio Merluzzo, ma Maurizio Merluzzo non ha mai risposto alle mie mail, magari non l'ha vista, magari era un rifiuto, chi lo sa, magari ho sbagliato io qualcosa, sta di fatto che non vi preoccupate, credo che il film vada benissimo così. In originale purtroppo la voce era molto più anziana, molto più profonda, ma ho pensato che sarebbe stato carino darle un'impressione completamente diversa con appunto Riccardo Riccobello. Guardate quanto sono belle queste animazioni, che lavoro ci deve essere stato dietro, mi dispiace un sacco vederle non finite, non colorate. E di nuovo queste mani che sono state fatte nel 2006, sono le ultimissime cose state fatte di questo film. Beh, è un vero peccato, ma non passiamo il tempo a parlare di quanto sia un peccato che non sia stato completato. Sappiate che con l'adattamento io so già che ci saranno di sicuro persone che hanno visto già il film in inglese e magari rimarranno un attimino deluse da certi adattamenti. Mi dispiace, ma era necessario davvero, l'adattamento è complicato. Tra l'altro, tra l'altro, in questa scena lui dice che l'unica cosa che può salvare la città è la più piccola anima, la più semplice anima, con la più piccola e semplice delle cose. Un chiodo, quella lucina tra le dita è un chiodo. Cioè, io non me ne ero nemmeno accorto le prime quindici volte che ho visto il film, che è tuttora il film che ho visto più volte in tutta la mia vita. Questa invece è la mia scena preferita. Il modo in cui è animato il ciobattino, il modo in cui viene presentato. ovvero che lui lavora anche mentre dorme, da quanto è un gran lavoratore. Tant'è vero che lui è povero, ha delle toppe sui vestiti, eppure i suoi negozi è pieno di scarpe. Lui è uno che lavora, ma non guadagna. E poi, dall'altra parte della piazza, il ladro. Con queste sue animazioni che io adoro, il modo in cui lui è cleptomane, ma non ruba perché ha bisogno, che ne so, di mangiare, di fare qualcosa. Lui ruba perché sì. Il suo unico scopo nella vita è rubare. Non se ne fa nulla di quello che ruba, però deve farlo. Fine. Notate, tra le altre cose, che le sue mosche non sono semplicemente mosche, ma sono, beh, la faccia del ladro con al posto delle orecchie delle alette. Cioè, queste mosche hanno la faccia del ladro, è fantastico. E nell'adattamento ci sono vari problemi, come i movimenti della bocca dei personaggi, che creano il labiale. Fateci caso, quando voi dite mamma, non potete dire mamma senza chiudere le labbra. Perché ci sono tutta una serie di movimenti che facciamo nella bocca. Con la B, la P e la M noi chiudiamo le labbra, mentre con altre lettere come la O e la U dobbiamo farle a culo di gallina. E è difficile riuscire a mantenere questi movimenti della bocca, perché se non vengono mantenuti diventa poco credibile, sembra che ci sia una voce che parla e il personaggio che muove la bocca. Non sembra che il personaggio stia dicendo quelle cose. Ed è per questo che purtroppo ho dovuto adattare, per esempio, sfere d'oro in palle d'oro. Perché balls, the golden balls, stava bene solamente con la parola palle. E comunque nel film, ormai l'avrete visto, è pieno di giochi di parole a riguardo. E quindi andava assolutamente mantenuto. Spero che abbiate notato anche che il ciabattino ha i pollici fasciati, perché continua a beccarsi con il martello sui pollici. È adorabile, guardatelo quanto è adorabile. Tra l'altro la pelle bianca indica che lui non è praticamente mai uscito dal negozio, perché lavora troppo. Assolutamente meraviglioso. Questa colonna sonora che sentite è La Forza del Destino. E ho avuto alcuni problemi di copyright per convincere la gente che faccesse parte del film e non fosse un qualcosa che io stavo rubando. Sì, perché su YouTube sono dei bot a controllare che tutto quanto sia in regola e a me è riuscito abbastanza difficile tenere d'occhio tutto quanto. E dunque, Richard Williams qui ha fatto un lavoro incredibile. Per chi non lo sapesse già, Richard Williams è il regista di questo film, che è stato regista anche di chi ha incastrato Roger Rabbit, di A Christmas Carol, quello che ha vinto l'Oscar. Ha fatto davvero grandi cose nella sua vita, tra cui anche La Pantera Rosa. E in queste animazioni è riuscito a dare il meglio di sé. Sono 24 frame al secondo, è assurdo. Oh beh, poi qui abbiamo questa scena meravigliosa con questi tizi che frustano la gente per fare spazio per il Gran Vizir. Dopodiché arrivano i suoi sgherri, che tra l'altro i primi tre che passano non si vedono mai più per tutto il film. Quelli successivi, invece, sono tutti e quattro doppiati da Alberto Pagnotta, grandissimo doppiatore, che è grandioso soprattutto nelle imitazioni, lo avrete di sicuro conosciuto su YouTube per questo. E qui l'audio è stato fatto da This is Luna, Luna Racini, e dal suo ragazzo che hanno salvato questo pezzo di colonna sonora che andava reso al meglio. E non temer, non temer Zigzag, il Gran Vizir è qui. Una delle cose più difficili è stata spiegare a tutti quanti i doppiatori come andasse pronunciato Zigzag, perché Zigzag, che era la pronuncia più corretta, suonava male con l'abiale perché era sempre molto più dolce, mentre Zigzag, che era un'altra pronuncia possibile con le zette italiane, stonava all'interno delle frasi e rallentava il ritmo, molto meglio Zigzag come in originale. E bellissima la scena del chiodo, perché lui appunto poi alla fine del film morirà proprio perché ha calpestato il chiodo che Tacco avrà lanciato. Tra l'altro so già che qualcuno si starà lamentando del fatto che ho adattato il nome di Tuck in Tacco. Ma purtroppo Tacco era l'unica possibile soluzione per poter mantenere il labiale di Tuck e al tempo stesso rendere il suo nome credibile all'interno del gioco di parole della strega con Tacco, attacco, eccetera. Mentre chiodo non sembra nemmeno un nome. Ho cercato di sacrificare il fatto che il suo nome sia anche quello dei chiodi perché, beh, dopo tutto qualcuno potrà anche pensare che quelli sono tacchetti da scarpa, no? Quelli che si usano quando si va in mezzo al fango o alla neve. E, beh, questa scena tra l'altro con i fiori che si muovono è stata animata da Art Bebbit, grandissimo animatore che ha lavorato a Biancaneve e Sette Nani, ha fatto anche la strega di Biancaneve e Sette Nani. E' meraviglioso il fatto che siano una una rosa con i colori del giorno e una con i colori della notte. Mi chiedo se ci sia un significato. Purtroppo non era segnato nulla del genere nella sceneggiatura o nel workprint da nessuna parte. E qui guardate il ladro che riconosce le tre palle d'oro e decide che cosa dovrà fare per tutto il film. Per poi restare chiuso fuori. Il doppiatore di Zig Zag, tra l'altro, è Sergio Garbarino, che so essere molto più giovane rispetto a Vincent Price, non somiglia a Vincent Price, lo so, è un vero peccato, ma era effettivamente il migliore per un personaggio del genere, perché lui ha capito in pieno il personaggio appena ha cercato di spiegarglielo. È stato davvero geniale, credo che sia riuscito a prenderlo in pieno e si sia divertito un sacco. Tra l'altro avete notato quelle blackface, ovvero dei quattro eunuki, e effettivamente potrebbe essere censurato il film per questo motivo. Io penso che una delle scene più divertenti sia proprio la fanciulla di Mombasa, con il re che sta dormendo perché nella città va tutto bene, quindi non ha motivo di governare, e appena Zig Zag gli dice nelle orecchie in modo molto sensuale che la fanciulla arriva dalla città di Mombasa. Ecco che il re si sveglia e impazzisce, e io sono morto dalle risate quando il doppiatore del re, Daniele Ambra, mi ha fatto quel Mombasa che davvero mi ha fatto morire. E qui di nuovo Alberto Pagnotta, che avrà fatto una fatica incredibile a ridere per tutto il film, perché questi quattro non fanno altro che ridere. Guardate come si capisce che la principessa e il ciabattino si sono innamorati l'uno dell'altra, semplicemente per il modo in cui si guardano. So bene che la testa viene inclinata dal lato sbagliato, ma serve a livello artistico per far capire che i loro occhi si allineano. È una congruenza di montaggio che permette di creare associazioni di forme. Tra l'altro avete notato che per tutto il tempo si vede sullo sfondo la concubina che continua a sbattere gli occhi. Il ciabattino penso che sia uno dei personaggi più meravigliosi. Guardate quanto è bello il gesto della principessa, ovvero di prendere la sua ciabatta e romperla, perché così sarebbe stato necessario l'aiuto del ciabattino e non sarebbe stato condannato a morte. E fate caso anche sullo sfondo a tutti i personaggi che ci sono e al fatto che ci siano questi pattern incredibili sia sul pavimento che sulle pareti. È una sorta di grandissimo fetish di Richard Williams mettere ovunque di pattern, anche solo di pavimenti a quadretti. Ci farete caso anche in Chi ha incastrato Roger Rabbit, sono davvero ovunque. Vabbè, zigzag che si infuria tanto da diventare rosso. Peccato per le scene che ogni tanto non sono completate, ma credo che sia anche un valore aggiunto al film. Vedere delle scene che ogni tanto non sono del tutto animate e che ti fanno vedere la struttura stessa del film che si trova dietro a quello che viene mostrato. Guardate, appunto, in scene come questa, magnifico, magnifico. Poi qui a dire, fate entrare i ricchi Polo Pony è Triangolo Scaleno, questo giovane cantante che sta cercando di mettere insieme un circo, degli spettacoli incredibili con delle maschere, grande cultura italiana, davvero, tutta la cultura delle maschere è racchiusa nel suo canale, è fantastico. L'ho conosciuto grazie a una sua cover del cantante Rancore e ho capito che dovevo assolutamente dargli un'opportunità di farsi sentire e qui è stato fantastico. sentirlo abbassare di svariate ottave il canto degli eunuchi perché, beh, in originale cantano come decastrati, cantano in falsetto e li senti che è ridicolo il fatto che loro, per quanto siano uomini, abbiano una voce che raggiunge note così alte e era bellissimo far spezzare la voce in gola a questo povero cantante. Povero, povero ladro che qui si becca a quell'unico angolino di discesa perché non è perfettamente in piano il pavimento ed eccolo che va a finire in acqua. Tra l'altro le due guardie sono state fatte sulla base delle carte di Alice nel pezzo delle meraviglie ma sono state riprese all'interno di Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomé che si è ispirato proprio a loro due per poter fare i mafiosi. Qui adoro il fatto che il ladro per respirare non faccia nessun fiato, non lo sentite respirare e questo vi dà l'idea di quanto stia annegando. È una scelta molto semplice ma che funziona da Dio, devo dire. Tra l'altro anche questi due sono doppiati da triangolo scaleno e spero che faccia strada a quel ragazzo perché sta cercando di portare qualcosa di nuovo. Io non smetto mai di morire dalle risate penso che questo sia un film che va visto assolutamente in gruppo. Proprio una serata tra amici dove si ride di queste scene in cui il ladro ha tutte le sfighe di questo mondo, poveretto. Soprattutto la sfiga è di incontrare tutte le volte la balia della principessa che è questa donna forzutissima con questi braccioni pesanti che, poverata, se ne va in giro canticchiando tutta tranquilla con i suoi occhiali mezzi rovinati che è un amore, è un amore. Tra l'altro la doppiatrice della balia è Sara Tessera che è stata fantastica, fantastica. È una voce d'anziana adorabile, davvero. Vogliamo tutti quanti una nonna fatta così. E una delle cose più geniali a livello proprio di regia di Richard Williams è inquadrare questi tubi dall'esterno. Perché vedete appunto che i tubi si muovono e percepite il modo in cui il ladro si muove al loro interno e lo trovate divertente anche se il ladro non lo vedete. E anche qui questa scena è meravigliosa dove, se ci fate caso, il ciabattino e la principessa si stanno ispirando l'una all'altra per la loro composizione. Perché la composizione di fiori è simile alla forma che ha il ricamo sulla scarpa così come il ricamo sulla scarpa è simile a come lei sta componendo i fiori. È una cosa che ho scoperto solamente grazie alla sceneggiatura perché non me ne ero nemmeno accorto a livello visivo. Penso che una volta animata questa scena sarebbe stata molto più chiara. E poi io mi chiedo un palazzo così sfarzoso enorme pieno di distanze in stile Escher com'è possibile che poi abbia delle tubature così terrificanti? In questa scena, tra l'altro, il re Renod doppiato da Daniele Ambra che è giovanissimo eppure riesce a sembrare anziano in originale non citava il fatto che fosse di Mombasa la fanciulla e adoro il fatto che lui gliel'abbia fatto dire abbia aggiunto queste battute che secondo me rendono ancora più esilerante questa scena che già di sua era divertente con appunto questo gabinetto reale che è la fregatura del ladro che in questo momento realizza che cosa gli sta per succedere e viene sparato di nuovo fuori. Fate caso comunque a Daniele Ambra che è stato fantastico perché lui ha 19 anni 19 anni è riuscito a creare questa vociona da anziano estremamente credibile oh beh qui alcune animazioni sono purtroppo risalenti alla versione di Calvert e infatti c'è questo piccolo momento in cui la balia guarda un attimino male il ciabattino perché nella versione di Calvert lei aveva dei pregiudizi su di lui perché era povero quando ovviamente nella versione di Williams non era assolutamente previsto o poi beh qui arriva questa scena meravigliosa con le ancelle allora le ancelle sono doppiate da This is Luna Luna Racini che appunto ha fatto anche la parte di canto e si è offerta a lei deliberatamente di doppiarle è stata davvero gentilissima e effettivamente qui non è chiaro se sia un ancello o se sia la principessa perché ovviamente in una breve scena delle tante che si vedono è la principessa a fare il bagno ma sono due personaggi diversi a star quanto mi ricorda It il bagliaccio assassino in sta scena comunque effettivamente sono due personaggi diversi a cantare e si vede che si rispondono anche a vicenda e non hanno l'aspetto della principessa tranne che in una sola scena e nel dubbio ho deciso di farle doppiare come se appunto fossero due ancelle della principessa perché questa era la versione più credibile comunque guardate le bolle altro che Cenerentola qui davvero riflettono dei pattern incredibili li trovo divertentissimo il modo in cui il ladro riesca davanti a una donna nuda a scegliere di puntare all'unica cosa di valore perché per lui l'unica cosa che importa è l'oro le pietre preziosi chi se ne frega se c'è una donna nuda infatti qui vedete che sono due comunque il ladro suppongo che sia omosessuale ora so bene so bene che va un po' troppo di moda cercare di indovinare chi potrebbe essere omosessuale o meno all'interno di un film ma più tardi forse cercherò di farvi notare il motivo per cui penso questa cosa e potrebbe interessarvi perché arriva direttamente dal libro di Richard Williams inizio a confondere i nomi non dimentichiamoci di ringraziare Garret Gilchrist che è autore di questa versione del film che ovviamente è magnifica assolutamente magnifica è quella più vicina e più completa a quello che Richard Williams avrebbe voluto ovviamente realizzata nel 2013 e non ha più ricevuto aggiornamenti dopo la morte di Richard Williams questa scena è tra le più assurde della storia del cinema è tra l'altro la prima che ho visto di questo film ed è questo inseguimento in questo ambiente che non saprei nemmeno come definire è a metà tra la metafisica le assurdità geometriche le assurdità di prospettiva appunto Escher e guardate quanto sono divertenti come il ciabattino perde oggetti mentre corre come usano delle geometrie molto semplici per ottenere grandissimi risultati assurdi è folle è semplicemente folle pensare che Richard Williams sia riuscito ad animare una scena del genere tra le migliori della storia del cinema d'animazione sono felice che sia stata mantenuta in tutte le versioni censurate ovviamente perché era indimenticabile non si poteva far finta di non vedere la meraviglia di tutta questa assurdità all'interno di questo palazzo che è estremamente metafisico perché chi mai costruirebbe delle scale con quella forma dai è un film assolutamente assurdo è giustissimo che lo sia povero ladro però tutte le sfighe capitano a lui tra l'altro avete notato che all'interno di quell'area del palazzo c'erano ancora le due guardie che hanno guardato il ladro mentre veniva sparato attraverso le vetrate e beh qui guardate anche le mappe sullo sfondo sono tutte quante state fatte con grande attenzione e tra l'altro sono dei disegni della città dorata che sono tra l'altro giganteschi non so se li avete visti nel documentario il ladro che mai si arrese ma sono semplicemente versioni non colorate del disegno della città che è stata fatta con una precisione che voi non avete idea è incredibile e gran parte delle sequenze del ladro che viene messo in prigione sono state purtroppo cancellate in tutte le versioni censurate quindi godetevi questa scena che è forse l'unica completamente finita in cui il giabattino è in prigione è fantastico il modo in cui lui riesce a dimostrare di essere particolarmente innamorato semplicemente sospirando lui non ha detto nulla nessun occhietto a cuore né altro tra l'altro questa scena dove lui cerca di offrire il suo unico cibo quel pane a un topo semplicemente perché affamato ricorda moltissimo Aladin e il rapporto che c'è tra Aladin e i poveri della città dove appunto lui fa tanta fatica a rubare un pezzo di pane ma poi non si fa problemi a darlo a un bambino è un grande esempio da dare ai bambini perché per quanto questo film sia pieno di battute per adulti e simili effettivamente un bambino impara molto vedendo un eroe che si mette da parte si sacrifica in questi modi così semplici con azioni così semplici che un bambino effettivamente può emulare senza aver bisogno di farsi mettere in croce come Gesù e dopo tutto e molti si sono chiesti che c'entrano qui i polo pony cioè non è uno sport inglese beh dovete sapere che tutti i protagonisti per tutto il film hanno uno spiccato accento inglese e fanno grandissimi riferimenti oh guardate il renaud che infila la mano nel telo della concubina e probabilmente in questo momento lo sappiamo tutti la sta masturbando di sicuro e Richard Williams si è divertito un sacco con queste cose perché un bambino non se ne accorgerà mai comunque tutti quanti i protagonisti in particolare Vincent Price parlano con uno spiccato accento inglese e fanno continui riferimenti a Shakespeare vabbè che zigzag sia Iago è abbastanza evidente guardate quanto si allunga Renato per infilare la mano nel telo della concubina cioè mamma mia e appunto il polo che c'entra beh visto che loro sono tutti quanti inglesi era divertente che loro guardassero il polo un elemento estremamente anacronistico per la storia tra l'altro le scene del polo sono tra le più vecchie ad essere state animate e si vede appunto che sono state animate in uno stile un po' più vecchio rispetto per esempio agli anni 90 e tra l'altro qui ci sono i giochi di prospettiva più assurdi e queste scene sono state inserite nei titoli di coda della versione censurata come se fossero un piccolo extra come se fossero boh le gag gli errori che mettono in film che si riferiscono un po' a Bollywood insomma ahhh beh che dire che dire semplicemente il ladro è uno dei personaggi in cui mi identifico di più tra l'altro avete notato che ha una sola ciabatta l'altra l'ha persa chissà quando l'ha persa prima dell'inizio del film comunque attento con quella mano Renod che l'ha infilata in postiche ecco bravo 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 e adoro queste scene che non avevo nel labiale perché era molto più facile cercare di essere fedeli all'originale nonostante zigzag che parla in rima è sempre un casino e dicevo appunto che il ladro è un personaggio in cui mi identifico tantissimo per il modo in cui lui continua a impegnarsi per ottenere qualcosa e non ce la fa proprio mai non ci riesce il ladro fallisce è una sorta di regola assolutamente una sorta di regola e anche nelle scene che sono più banali come ora che lui mostrerà appunto solamente gli occhi all'interno della buca che è una cosa che abbiamo sempre visto qualche volta l'avete vista anche solo in Scooby Doo beh è divertente che qui vediate i suoi occhi e la palla e senza vedere assolutamente nulla di questa scena ridete perché sapete già che cosa sta per succedere così come ridete perché diamine non è possibile che capitino tutte queste al ladro che ci avete fatto caso che ha un solo dente un solo dente d'oro che probabilmente ha pure rubato il ladro è senza dubbio uno dei personaggi più divertenti non dimenticate che all'interno del doppiaggio dei personaggi non bisogna tenere conto solamente del labiale ma anche di quella cosa che per esempio Gualtiero Cannarsi non ricorda mai che esiste un registro è stato complicatissimo per me far parlare con delle o far scegliere delle parole completamente diverse a Zig Zag che è il gran visire rispetto a Occhio Solo che deve essere più borbero e sporco rispetto alla principessa che invece è una persona molto più fine smettere di allungarti così Renod avete fatto caso spero al ladro che sta ancora rimbalzando dietro la testa di Zig Zag vero? lo avete notato che sta ancora venendo colpito e tra l'altro questa battuta di Sergio Garbarino gliel'ho fatta rifare perché non mi piaceva il modo in cui diceva in modo allegro le palle d'oro solo che quando l'ha detto in modo serio mi sono reso conto che no era meglio con la versione più allegra queste scene tra l'altro sono state usate semplicemente per il trailer perché al di fuori del trailer in tutte le versioni censurate non ci sono più e infatti per questo hanno questi tagli così improvvisi qualcuno infatti mi aveva chiesto ma come è possibile che ci siano questi tagli improvvisi in un'animazione che in realtà è abbastanza fluida perché dovrebbe alternare beh perché hanno deciso di animare semplicemente alcune di queste scene infatti anche io le ho mantenute all'interno del trailer qui tutto il coro degli occhi soli è fatto da un gruppo di bravissimi doppiatori tra l'altro c'è anche Shadow Grimm qui in mezzo ma c'è anche un bravo doppiatore che aveva lavorato ad a tutto reality il disagio cioè tutto il coro degli occhi soli è fatto da un gruppo bello cospicuo di bravissimi giovani doppiatori mentre a fare occhio solo quello vero e proprio è Francesco Saverio De Angelis che ha questo vocione che io adoro e ero tutto emozionato dell'idea di scrivere a lui per fargli doppiare questo personaggio perché pensavo di doverlo convincere invece no lui era fan del film è stato più che entusiasta di fare non solo occhio solo ma pure il capitano dei briganti spietuto e tra l'altro spietuto è una storia di adattamento incredibile perché lui dice ruthless nel film che significa spietato ma lo pronuncia male lo pronuncia come se fosse senza soffitto e dovevo trovare un modo per farlo suonare burbero ma al tempo stesso sbagliato rispetto alla parola spietato che era troppo fredda spietuto era adatta a lui questo povero ferito tra l'altro questo povero ferito è un altro bravissimo doppiatore che ha un canale youtube chiamato life is a work of art e non ha voluto che io dicessi il suo vero nome ma sappiate che comunque sono disposto a rivelarlo casomai qualcuno lo cercasse disperatamente per avere contatti con lui perché è bravissimo perché vi giuro è davvero stato bravissimo proprio perché aveva solamente sette battute e un sacco di fiati ma ne valeva la pena perché aveva una voce non solo identica a quella originale ma era davvero bravo anche nel fare i fiati proprio ti sale l'ansia per lui che cerca di salire a cavallo proprio grazie al suo doppiaggio no non l'ho mantenuto l'originale anche perché in originale ho tolto le voci le voci erano tutte quante su una sola colonna e su quella colonna c'erano anche i cori degli occhi soli e la voce di occhio solo avete notato che questa torre è molto simile in qualche modo al bastone di Jafar in Aladdin e questa penso che sia stata la scena più difficile da adattare di tutto quanto il film perché parla solo zigzag e sta esprimendo dei concetti molto complicati si sta riferendo al narratore iniziale sta dicendo che in poche parole per lui in realtà il mondo è un'illusione e lui si sente furbo perché lo sa che è un'illusione e quindi riesce a governare riesce a convincere chiunque di qualsiasi cosa gli venga in mente riesce a giostrare la plebe e mi stava riuscendo molto molto difficile cercare di mantenere tutti i suoi enormi significati in queste scene in cui il labiale è molto preciso e diventa impossibile imbrogliare su qualcosa ringraziavo quelle pochissime scene in cui magari si copriva la bocca per qualche momento perché questa è la scena che mi ha fatto decidere di cambiare tutto quanto il resto del film che avevo fatto fino a questa scena perché le sue rime in originale sono concatenate io ho scelto di fare delle rime baciate perché funzionavano meglio in italiano in questa scena altrimenti era una follia davvero infatti penso che alcune alcune battute si siano un po' perse ma dopo tutto il suo monologo era incomprensibile anche in originale le regole di doppiaggio comunque sono tantissime voi non avete idea perché anche il raddoppiamento fonosintattico sono delle regole grammaticali che la gente non conosce magari vi vengono spiegate le elementari ma poi vengono dimenticate ma in genere nessun insegnante le spiega perché sono regole della grammatica italiana che nessuno nel parlato comune usa e questi doppiatori ovviamente hanno dovuto conoscere non solo la semplice dizione ma ogni singola altra regola del parlato hanno dovuto imparare ad articolare per bene la voce mettersi una matita o un tappo in bocca cercare di leggere è complicatissimo davvero guardate questo lavoro con tutta questa animazione oh mio dio è assurda sarebbe bello vederla un giorno magari colorata però no no non si finisce mai un film dopo la morte dell'autore devo ricordarmi di questa regola perché pure io sono un tentato per tutto il film una delle regole più importanti per Richard Williams era il fatto che ci dovesse essere questa atmosfera sognante e quindi ci sono un sacco di sequenze che non hanno senso nel mondo reale ma che hanno senso in questo film come il fatto che la principessa dorma all'aperto e che dorma sopra a un letto che è vivo che fa da guardia è effettivamente un qualcosa di geniale proprio nello stile dei sogni potrebbe essere una scena di De Chirico di Dalì questa assolutamente straordinario formidabile e la principessa tra l'altro è Valentina Bonacoscia che ha una voce molto più oscura rispetto alla principessa della lingua originale ma pensavo funzionasse da dio con lei non solo ha colto in pieno la principessa ma aveva una voce molto matura molto calda che non la faceva somigliare a una generica principessa di Disney ma le dava una personalità molto più precisa e ha doppiato tutto quanto il film mentre era incinta ma proprio con tutte le difficoltà di una situazione del genere lei in dolce attesa è riuscita a doppiarmi tutto quanto il film ed è l'ultimissimo lavoro che si è concessa devo ringraziarla da morire e beh spero che la sua vita da mamma sia meravigliosa perché assolutamente assolutamente crescere un bambino dicendo guarda io sono stata la principessa di questo film potrebbe essere pazzesco poi sì magari questo film non sarà ok a più nessuno e questo video magari sul commento del film avrà dieci visualizzazioni però non ci pensiamo ok? non ci pensiamo in queste scene mi sono preso la libertà di aggiungere un paio di effetti sonori che mancavano come la porta che si apre il suo cigolio perché Garrett Gilchrist in realtà si è inventato tutti quanti gli effetti sonori di queste scene e effettivamente pensavo che andassero che andassero aggiunti andessero aggiunti andassero oh mio dio sto avendo dei dubbi grammaticali che sono terrificanti ma che cacchio dice andassero andassero che cacchio di dubbi ho la visione del re con il re che poi impazzisce smette di essere addormentato e improvvisamente diventa la persona più attiva del mondo è un ottimo segno di quanto lui ami il suo popolo poi mi fa morire mi fa morire il fatto che mi hanno deciso di abbassare tantissimo di tantissimo Tave il primo di questi eunuki perché altrimenti tipo poveretto triangolo scaleno mi moriva gli si si rompeva la voce ma sul serio stavolta proprio che non si rimetteva più in sesto tra l'altro le grida di Renod nella scena in cui scopre che le spalle d'oro sono sparite quella in cui grida le palle le palle quella scena io l'avevo equalizzata male e mi ha letteralmente lesionato un orecchio sono dovuto andare dal medico è stato un casino perché sono stato davvero terrorizzato penso di non essere in me spaventato così tanto avevo paura di restare sordo e per una settimana non ho potuto lavorare al film perché mi ha detto di stare assolutamente a riposo poi ho iniziato con calma senza mettermi le cuffie e beh mi dispiace molto che in queste scene si alternino cose che sono state che sono state animate tantissimo tempo fa cose che sono state animate più recentemente cose che sono state animate da vari animatori molto diversi tra loro un vero peccato e dunque è bello vedere la preoccupazione del re che tra l'altro Daniele Ambra ha colto in pieno nonostante che lui avesse tante battute complicate è riuscito davvero a non avere bisogno di rifarle quasi mai è stato davvero fantastico io devo dire che tutti i doppiatori con cui ho lavorato hanno fatto un lavorone davvero un lavorone ovviamente ci sono doppiatori come Alberto Pagnotta che praticamente io ho chiesto che cosa fare e lui l'ha fatto e basta mentre ci sono altri ho dovuto dare molte più attenzioni cercare di spiegare come era una certa scena che cosa intendeva il personaggio perché era lì perché era stato animato in quel modo quella cosa tra l'altro avete notato che qui Zigzag ha il design che aveva prima che si decidesse di farlo somigliare a un avvoltoio e perché io durante questo video continuo a dire tra l'altro servirebbe una persona che si alterni a me per parlare perché io ho tante 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 di quelle cose da dire che non avete idea non avete assolutamente idea anche alternare questi continui fallimenti del ladro al rapporto tra Zigzag e Renaud è estremamente divertente davvero io io penso che penso che tutto quanto questo sia stato incredibile ho scoperto tante cose sul doppiaggio dalle dinamiche e le equalizzazioni ma anche solo i tipi di microfoni i vari tipi di hertz che potevano raggiungere o meno è incredibile davvero è incredibile la compressione dell'audio è è un mondo affascinante nonostante tutto e appunto ho avuto quella a diversi problemi di adattamento cosa che non sapevo come gestire cosa che non sapevo come fare per esempio Occhio Solo è stata una scelta molto complicata perché in originale lui si chiama One Eye e potevo lasciarla in originale ma effettivamente secondo me One Eye non ha un suono minaccioso in italiano in inglese sì ma in italiano sembra quasi un lamento è un suono con troppe i troppo fine One Eye per essere un personaggio che deve spaventare mentre Occhio Solo aveva un suono molto più minaccioso se capite che intendo e tra l'altro lui se ci avete fatto caso ha un occhio solo e tutte le persone che lavorano per lui hanno un occhio solo dalle sue schiave all'esercito tutti con un occhio solo tra l'altro in una delle versioni censurate si sono inventate che la strega del deserto lei sia nata dall'occhio che Occhio Solo ha perso cioè ma che assurdità sì ha un film pieno di assurdità dopo tutto soprattutto con queste scene in stile Scratta con la ghianda ma esiste anche un limite creare una lore non è una cosa che aiuta un film che cerca di avere un'atmosfera fiabesca sappiate che un film meno ha una lore meno ha delle sottotrame più riesce ad essere fruibile e semplice a livello artistico e infatti il valore artistico di questo film è assurdo è incommensurabile non è semplice intrattenimento è proprio qualcosa che nonostante sia molto divertente ha un grande 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 valore io penso che questo film dovrebbe essere visto davvero da chiunque anche se il re che impazzisce contro zigzag è incredibile e certe dinamiche che si sono create nei rapporti tra i personaggi in modo quasi casuale in questo doppiaggio in colonna separata è assurdo è assurdo cioè davvero è incredibile il modo in cui riescano ad essere andati d'accordo tra loro creando delle scene che sono seriamente divertenti non semplicemente buffe ma proprio divertenti divertenti mamma mia e tra l'altro è bellissimo vedere anche il ciabattino che un attimino resta incredulo all'altro finché a un certo punto non ci si abitua e inizia ad alzare gli occhi al cielo diciamo eh vabbè ma dai perché pure lui si rende conto di quanto sia assurdo quello che succede le mosche che lo seguono le mosche che seguono il ladro ovunque lui vada incredibile tra l'altro lavorando la locandina uno dei personaggi più difficili è stato il ciabattino cioè in realtà sono due personaggi quindi perché dire uno dei personaggi effettivamente sono stati tutti e due molto complicati il ladro è stato complicato perché bisognava creare delle ombre sul vestito quando nel film non le ha e riuscire a renderle credibili assurdo semplicemente assurdo questo film è incredibile io non capisco le persone che riescono a considerarlo noioso dopotutto a un film dei suoi tempi guardate che fastidio guardate che fastidio in questa scena con il cielo e a parte della città che non sono disegnati è qualcosa che fa capire molto di quanto il film fosse davvero vicinissimo al completamento un vero peccato chissà quando è che il ladro ha perso una delle due ciabatte mi sarebbe piaciuto scoprire che a un certo punto in una scena del film saltava fuori la sua ciabatta in qualche angolino invece non è mai successo dunque sempre parlando di adattamento e doppiaggio io ho visto fin da subito che c'erano delle parti del film che io non potevo adattare per esempio re nod nod non è una parola senza significato re nod significa re dormiente re sonnecchiante come l'ha messo qualcuno nei sottotitoli re sonnecchio ma però era impossibile adattarlo pensai a snort pensai a un sacco di altre cose ecco quel problema si ripetè con un sacco di altri personaggi la principessa yam yam significa principessa appetitosa e io decise di mantenerla yam yam di nuovo per il labiale così come beh il ciabattino che non è calzolaio o altro proprio perché nel labiale ciabattino ci stava benissimo e così anche occhio solo ho visto gente tradurlo come un occhio ho visto addirittura sottotitoli adattarli come la tribù degli unocchi mamma mia che nome sembra sembra una nuova tribù in abruzzo ma perché unocchi e beh io già percepisco che ci saranno delle lamentele per tacco il ciabattino perché purtroppo era necessario per di nuovo il labiale non potevi chiamarlo chiodo ma soprattutto per le tre palle d'oro perché tutti 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 le hanno sempre chiamate sfere d'oro ma in originale sono golden balls e infilare in balls palle era complicatissimo ecco questi sacrifici che sono davvero tantissimi per i nomi dei personaggi si sono ripetuti anche per le singole frasi dette da tutti quanti Zigzag in originale fa spesso riferimento al fatto che lui non creda che il mondo reale sia davvero reale pensa che il mondo reale sia una sorta di sogno che non vale la pena di tenere in considerazione come se fosse qualcosa di troppo vero e nella mia versione nella versione in italiano purtroppo parte di queste battute viene persa perché appunto non c'era un modo semplice per dirlo in italiano e quindi adattandolo di volta in volta in modo diverso non si percepisce così tanto che per lui questa cosa sia importante non assente ciò ho comunque mantenuto ogni singola battuta non ci sono veri e propri significati che manchino all'interno delle frasi di Zigzag e infatti guardatelo come si sta perfettamente accorgendo del furto da parte del ladro e stia cercando di proposito di rallentare il re un semplice piccolo sguardo può bastare è una delle cose più belle della regia e poi beh sempre parlando di palle d'oro come potevo chiamare le sfere se poi in questa scena diventano praticamente dei testicoli del ladro non sono l'unico ad averci pensato vero e beh Richard Williams tra l'altro era una delle persone più facili da irritare quando si trattava del suo lavoro nessuno doveva permettersi di toccarlo e diventava facile discutere con lui proprio di come lui voleva o non voleva che il film fosse fatto infatti credo che l'insuccesso del film non sia dovuto semplicemente al fatto che la Disney fosse brutta e cattiva in realtà la Disney ha fatto quello che poteva per non perderci tutti i soldi insomma l'insuccesso di un film non è solo meno soldi nelle casse della Disney ma significa anche meno soldi nelle casse dei singoli animatori che hanno fatto tutta quanta questa gente c'è un design per ogni singola persona che passa per questa piazza anche se deve aprire per così poco tempo anche se non appare in volto gli hanno dovuto disegnare il naso e sceglierne uno diverso dagli altri e beh sono tutte quante persone che non sarebbero state pagate purtroppo in questa scena ho adorato sentire il doppiatore del ferito che continuava a danzimare in modo estremamente credibile e nessuno lo sentirà mai perché c'è tanto di quel chiasso in queste scene che è incredibile come nessuno se ne accorga così come il sarà fatto che dicono gli sgherri di zigzag Alberto Pagnotta ne fece tantissime versioni e dovete sceglierne una sola perché appena ne sceglievo due i tempi comici e i tempi del film in generale andavano a sminchiarsi io sono molto molto felice di come è uscito l'adattamento perché pensavo sarebbe uscito un sacco peggio sinceramente di sicuro non è perfetto di sicuro si sente che la colonna internazionale è rovinata e di sicuro si sente la differenza tra i vari microfoni però pensavo si sarebbe sentita di più penso che sia molto più di quello che potevo fare con il mio budget e dunque in questa scena tra l'altro il suono delle palle d'oro l'ho dovuto ricostruire io da solo perché andava completamente perduto insieme alle voci una volta tolti i medi mancavano anche tutti quanti i piccoli suoni e mamma mia quanto sono belle alcune di queste scene che alternano l'HD e addirittura il 4k a merdine con pochissimi pixel è un vero peccato fa sempre parte del lavoro che ha fatto Garrett Gilchrist per cercare di riunire tutti i pezzi di questo film guardate qui che ci sono gli effetti della pellicola si vede il modo in cui è leggermente rovinata è un vero peccato tra l'altro fu questo il grido che mi fece lesionare un timpano dovetti andare dal dottore e scoprire che era oh mio dio è stato terrificante voi non avete idea un timpano lesionato non è particolarmente doloroso tanto quanto è dannatamente preoccupante perché ogni movimento che facevo con la testa lo sentivo lo sentivo come se fosse una sorta di foglia secca incastrata nell'orecchio che non potevo toccare o provavo dolore e mamma mia Daniele Ambra comunque è stato davvero bravissimo si presentò per la mia serie animata tutorial di il disagio per doppiare un personaggio mi mandò una serie di clip doppiate da lui per farmi sentire le voci che era in grado di fare e una di queste voci era stata fatta per cercare di imitare Albus Silente certo non era somigliante ma era esilarante infatti quando dovete decidere un doppiatore per Renaud all'inizio pensavo di prendermi un doppiatore molto anziano ma è difficile trovare degli anziani o degli adulti disposti a fare qualcosa per un progetto via internet senza avere una sale magari sapendo addirittura usare la connessione quindi dovete puntare automaticamente su Daniele Ambra che però fece un lavoro incredibile voi non avete idea di quanto io l'abbia dovuto aiutare a rifare 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 ogni scena perché fosse assolutamente perfetto tra tutti i doppiatori infatti penso che sia quello che si è dovuto sforzare di più dal momento in cui doppiare più di tre frasi con la voce di Renaud gli annientava la voce tanto è vero che era difficile mantenerla non assente ciò è stato fantastico davvero un gran ragazzo questa è una delle scene più vecchie fateci caso il ladro è disegnato in modo leggermente diverso e molti di questi effetti che magari vanno un po' più a scatti o hanno dei tagli sui movimenti del ladro sono tipici degli anni 60 e 70 e infatti danno perfettamente l'idea di quanto questo film abbia iniziato la sua produzione nel 63 e beh una vita fa una vita fa e chissà quanto tempo ci dovrà volere prima che arrivi in altri stati quindi ringraziate che l'Italia abbia un doppiaggio italiano per quanto sia questo che magari qualcuno odierà sì perché ne sono capitate di tutti i colori è in questa scena in particolare che si nota quanto le guardie siano identiche ai mafiosi all'interno di appuntamento Belleville di Sylvain Chaumet tra l'altro doppiare queste guardie è stato compito di triangolo scaleno che credo che le abbia adorate io non ho mai visto un ragazzo così entusiasta per un progetto un ragazzo che non è che si occupasse di cinema o di doppiaggio ma che è riuscito a fare un lavorone assolutamente soprattutto con quella scena in cui loro devono gridare ladro che era complicatissima da mantenere e io stesso ero stato in difficoltà nell'adattamento perché come facevi a mantenere quel suono per trasformarlo in ladro dovevi sostituire tutto quanto con un la mamma mia sto avendo difficoltà a parlare però sapete sto parlando da un po' di ore ormai un po' di minuti avete capito questa scena potrebbe tranquillamente essere censurata nel senso che sì ovvio è stata censurata nelle versioni Miramax della Edmi Filmmakers cioè la versione di Calvert quindi Weinstein e Calvert tutti e due hanno tolto questa scena ma è interessante pensare che Aladdin il classico Disney sia stato censurato solo per aver citato velocemente all'interno della canzone iniziale il fatto che in un paese arabo fosse possibile questa punizione e mentre in questo film non solo quella punizione c'è ma viene applicato come se come se fosse la cosa più normale del mondo come se non servisse una giuria che di pari del ladro che lo difendesse comunque questa scena in cui questa genialata del tira fuori gratta schiena io penso che sia formidabile così come formidabile il fatto che uno dei pochissimi versi del ladro sia stato fatto proprio quando lui finge di essersi appena tagliato le mani e quindi si laccava facendo questo verso che mi fa morire tutte le volte nonostante questa scena sia piena di ansia e pathos e mia madre quando vide questo film io lo faccio vedere ovviamente arrivò a questa scena era convinta che gli avessero tagliato davvero le mani si coprì addirittura gli occhi e invece poi c'è lui che si le controlla per essere sicuro di averle tutte quante insesto oh giusto perché il ladro dovrebbe essere omosessuale cosa che ho citato prima nel libro di Richard Williams di Animator Survival Kit racconta un aneddoto molto interessante in cui lui dovette inchiodare in auto perché si era reso conto di aver visto un ragazzo passare molto lontano da lui coperto quasi del tutto da un muretto e lui si era reso conto di aver pensato che fosse omosessuale ma non capiva perché che cosa lo aveva fatto pensare che cosa l'aveva portato a credere che lo fosse insomma Richard Williams non era assolutamente omofobo razzista né altro e come era possibile beh la risposta fu che non muoveva la testa quando camminava guardate i personaggi quando camminano vanno su e giù con la testa giustamente perché è quello che fanno quando muovono le gambe mentre il ladro non lo fa e quando lo fa lo fa molto poco potrebbe essere semplicemente un modo per renderlo un po' più quattro quattro però poteva essere anche divertente effettivamente quel dove sono le palle è divertentissimo soprattutto se ci avete fatto caso c'è zigzag che si copre i testicoli in quella scena e non è chiaro se sia stato appena colpito oppure se abbia pensato a quello che il re appena ha detto tutti quanti quei giochi di parole sulle palle ci sono anche in originale ve l'assicuro è leceto che vengano dei dubbi sul fatto che ci fossero visto che sono così particolari questa scena è meravigliosa avete notato che nelle nuvole ogni tanto capitano delle altre mani di zigzag per rappresentare proprio il modo in cui si sta prendendo gioco del re è una delle scene più belle in assoluto dove la pelle blu di zigzag del visir è quasi fluorescente quasi luminosa e poi appunto c'è la famosa scena che è stata senza dubbio presa d'ispirazione dalla Disney dove il gran visir chiede in sposa la principessa e il sultano ovviamente non è esattamente d'accordo qui potete vedere che zigzag ha l'aspetto che aveva prima che venisse trasformato in una sorta di voltoio con quelle spalle molto grandi e quel vestito nero qui potete intuire quale fosse il suo aspetto quando quello di Renaud era già scelto qui è identico a Brontolo comunque o adotto magari potete vedere che queste animazioni sono state fatte prima rispetto a molte altre che purtroppo non sono mai state completate ma questa questa è una delle più belle è un peccato che non ci siano state più scene in stile Asher all'interno del film però è incredibile vedere questi passaggi assurdi questi movimenti all'interno del palazzo che sono di un affascinante incredibile e poi qui abbiamo la scena in cui il re finalmente decide di mandare la principessa in missione per salvare la città dorata ora mandare una principessa in missione per i tempi era qualcosa di assolutamente assurdo non era non si era mai vista prima una principessa che prendesse posizione e decidesse che cosa fare che si salvasse da sola e per quanto in questo film non è che faccia chissà cosa la principessa anzi è quasi un personaggio di spondo effettivamente questo carattere così forte e deciso che non è quello tipico della donna che deve essere salvato che deve fare da buon esempio insomma questo carattere tipico da cavaliere è qualcosa che non va sottovalutato e che tra l'altro la doppiatrice Valentina Bonacoscia ha apprezzato fin da subito e per questo ho scelto la sua voce così scura perché sapeva di una principessa molto più sicura di sé e decisa su quel che voleva fare e qui appunto il re racconta loro della buddha l'idolo d'oro che devono raggiungere per poter scoprire l'entrata alla torre della strega e se ci pensate tutte quante quelle scene della torre di buddha sono tutte quante legate a una religione che non è quella che avete conosciuto finora è una religione completamente diversa se prima siamo stati molto sul musulmano il buddha invece è tipico di regioni molto più orientali forse è stato fatto proprio per sottolineare quanto fossero lontane tra loro beh il centro del deserto è la città d'oro una delle cose più assurde all'interno di questi storyboard è vedere per esempio la balia che controlla gli occhiali quando sente parlare del ciabattino sono piccolezze che rendono fanno davvero la differenza all'interno di un film come questo che appunto non è che possa puntare molto su una struttura complicata dei personaggi ma sono estremamente ben pensati guardate anche solo il modo in cui camminano il modo serio e fisso con cui camminano i onuki rispetto al modo imbarazzato e ragnesco con cui cammina il ciabattino o non è poco non è poco il fatto che voi riconosciate per esempio il ladro in base a come cammina è qualcosa che vi può essere estremamente d'aiuto per ricordare i personaggi questa è una delle sequenze più assurde dove ho dovuto fare più fatica per l'adattamento perché ovviamente ogni singola battuta di sottofondo di ogni singolo personaggio all'interno del deserto deve essere stata scritta e quando questo gruppo di ragazzi gestito da Francesco Severo De Angelis ha dovuto doppiare queste scene del film mamma mia ha dovuto far fare loro un sacco di ruoli hanno dovuto sostituire un gruppo di 30 persone ed erano pochissimi 4, 5 e devo dire che è stato un lavoro incredibile ci sono molte battute in queste scene che purtroppo sono andate perdute perché anche in originale qui non si capiva un granché di quello che i briganti stavano o meno dicendo ma in realtà qui dentro ci sono tantissime battute per ogni singolo rumore di fondo che serve a creare un po' di folla tra l'altro questo è Shadow Grimm che grida come un pazzo e l'ho adorato è stato fantastico anche perché è molto simile all'originale qui ho dovuto ricostruire il suono delle ossa mi è dispiaciuto un sacco perché quello originale era irrecuperabile qui ci sono alcune delle battute più divertenti di tutto il film come il brigante che grida qualcuno lo ammazzi o il modo magnifico in cui un altro brigante grida non siamo mica stupidi di noi così come in questo punto dove c'è un piccolo easter egg ovvero Adriano che non è un doppiatore che ha aggiunto una mini battuta ovvero una brigante che parlando in napoletano chiede di poter avere anche della pizza con del pomodoro sopra e sono tante tante battute di questo tipo cose che i briganti desideravano a parte alcune che erano necessarie per il labiale tra l'altro è stato incredibile per me ritrovarmi a dover adattare in italiano la parola drink che significa bevande qualcosa da bere acqua però né acqua né bevande né qualcosa da bere stava nel labiale di drink poi ci ha ragionato e che tipo di bibita potrebbe bere un brigante eh la birra drink e birra hanno quasi lo stesso labiale è stato incredibile non me l'aspettavo e qui anche in originale io mi sono divertito tantissimo a vedere che proprio sul copione c'era scritto che loro dovevano ripetere tutti quanti il libro il libro e la guida oh la guida parole così come in questo punto dove loro stanno tutti quanti gridando ma qua in mezzo ci sono delle parolini che potreste percepire e mi fa morire delle risate il fatto che questa roccia abbia la stessa identica forma dei briganti che si mettono lì dietro è geniale l'unico sasso in mezzo al deserto l'ha beccato loro tra l'altro in mezzo a questi briganti molti miei amici hanno riconosciuto vari personaggi e non so se ci avete fatto caso ma proprio per sottolineare il fatto che fossero rozzi e grezzi oltre ad avere varie cicatrici in ogni parte del corpo hanno dei nasi particolari fate caso ai loro nasi in particolare al naso di spietuto che in originale era ruthless e io ho dovuto adattare in spietuto perché ruthless è un errore nella pronuncia di ruthless che significa spietato e volevo qualcosa che fosse altrettanto rozzo e un altro ecco ecco guardate il suo naso è un pene è un pene questi simboli falici che neanche freud è chiaramente un pene ok lo so chi mi state per dire che le sto sparando grosse ma sono effettivamente delle forme che tornano spesso all'interno di ciò che deve essere considerato sporco per lo spettatore il fatto che loro abbiano delle teste molto molto piccole per esempio aiuta a far percepire che siano stupidi mentre hanno delle delle bocche molto molto grandi in modo da sottolineare il fatto che siano anche simpatici e non spaventose perché nessuno di loro ha dei denti davvero aguzzi ma al massimo sono sdentati manca qualche dente quella e qualcuno magari un po' puntito poi beh tocco di classe il fatto che abbiano dei peli sulle spalle o sotto le ascelle studiare il design di un personaggio è molto complicato pensate anche solo alla principessa yam yam vedete il velo è creato tutto quanto su un livello diverso rispetto al resto del disegno della principessa questo significa che era come avere un personaggio in più a schermo da animare che era il velo da fare in trasparenza oh beh oh beh tra l'altro questo simbolo degli occhi soli mi dicono che sia molto somigliante a quello del cattivo di kung fu panda 2 non lordo shen ma il lupo senza un occhio che guarda caso potrebbe essere anche un riferimento occhio solo chi lo sa adattare le frasi di zig zag in una scena del genere è stato una delle cose più assurde di tutto il doppiaggio di zig zag insomma se nella sezione zig zag abbiamo vari momenti difficili uno dei più difficili è stato questo perché lui doveva interagire in modo credibile con occhio solo che però ha questo vocione incredibile tra l'altro guardate questa prospettiva la Jan Van Eyck è incredibile sembra di vedere un dipinto fiammingo invece no vabbè il punto è oltre a lui che usa delle donne come schiave e cioè lui viene ucciso dal suo stesso trono quanti cartoni animati avete visto dove il cattivo muore ucciso dal suo trono e comunque riuscire a far interagire tra loro due personaggi con delle voci molto diverse è stato complicatissimo però è bastato giocare molto di più sui doppi sensi ai giochi di zig zag quindi ci ho messo il doppio dell'impegno come occhi 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 sono io se non zig zag dove in originale lui diceva I am zig zag però non riusciva a dirlo perché si era reso conto che I significa anche occhio e non voleva nominare l'occhio che manca occhio solo tra l'altro se ci avete fatto caso tutti gli scheletri e tutti i personaggi tutte le persone che lavorano per occhio solo hanno un occhio solo guardate gli scheletri a terra hanno tutti quanti un occhio solo e oh mio dio qui mi è dispietuto un sacco me l'ha detto anche il doppiatore dispietuto che purtroppo è un peccato che qui mancasse qualche gioco di parole extra da parte di zig zag dopo tutto la scena in cui lui anima le carte è una delle prime di tutto il film e in quel pezzo lui dice io ho potere sul mondo perché la realtà è come un gioco e io controllo il mazzo voi siete tutte quante mie carte e io controllo il mazzo non riuscivo a mantenerlo in italiano vi giuro ho fatto una fatica incredibile però penso che alla fine sia funzionato beh l'enorme difficoltà che ha avuto Richard Williams ad animare questa scena che è una delle primissime di tutto il film comunque già vale tutta la fatica che ci ha voluto nel riuscire a portare questa cosa in Italia non solo ogni singola carta con un seme un simbro e un numero è perfettamente studiate per fare in modo che non capitassero due carte identiche e ognuna di queste si sposta ruota su se stessa senza mai dimenticarsi quale carta è quale e quando le mescola le mette nell'ordine preciso in cui andrebbero messe è incredibile questo film è assurdo questo film è assurdo pensate anche solo alla genialità del design di un personaggio che è completamente in Telen Orange perché ha queste parti dorate sui vestiti ma lui è blu e poi il resto è nero e si perde nel buio di queste scene dove non serve ambientazione tra l'altro io ho dovuto far rifare anche le battute sulle tre palle d'oro perché purtroppo Sergio Garbarino per quanto fosse bravissimo le aveva fatte molto allegri io volevo cercare di far salire la tensione qui perché si sta arrivando a quella bellissima risata di occhio solo che è una non risata è terrificante è spaventosa io mi chiedo ancora come abbia fatto il doppiatore è stato magnifico davvero magnifico le scene con i briganti che dormono sono magnifiche il modo in cui interagiscono tra loro abituati a dormire tutti quanti assieme il fatto stesso che alcuni di loro stiano respirando dai piedi di un altro che schifo immaginate i uomini puzzolenti che non vedono l'acqua da 30 anni mamma mia ricordate che comunque è un film che gioca molto sulle sordità quindi non cercate di trovare un senso e una logica in ogni cosa perché il suo essere magnifico sta proprio nel fatto che sia un'opera d'arte non a caso un film che è stato esposto al momma perché non è affatto diverso da un dipinto di Dalì o Warhol insomma una luna del genere o un collo del genere per un cammello ovviamente non funziona questa scena troppo Tom e Jerry non sono realistici ma niente nel film ha intenzione di essere realistico tra l'altro l'effetto acquatico qui è pazzesco proprio credo che questa scena sia stata inserita da Richard Williams solo per dimostrare che era capace di fare anche questo questi effetti speciali che alla Disney mamma mia sembrava una grandissima innovazione poterli fare è fantastico è fantastico mi sto rendendo conto di stare dicendo troppo spesso tra l'altro all'interno di questo commento io credo che sia complicato fare commenti apprezzateli quando fanno commenti del regista all'interno dei film perché è incredibile riuscire a trovare un sacco di cose da dire perché ce ne sono ce ne sono un anno di lavoro volete che io non abbia qualcosa su ogni singola scena purtroppo però devo anche cercare di ricordarmene e questa è la parte più difficile qui a parte che ci avete fatto caso ovvero che ogni mano di zigzag ha gli anelli di un colore diverso probabilmente perché gli animatori non riuscivano altrimenti a distinguerle tra loro qui io stavo per piangere quando mi sono rosa conto che lui dice fat fat e non c'era modo di tradurlo perché promette del grasso 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 però non stava nel labiale e nulla ho scoperto che potevo fargli dire carne è stato incredibile per me avete notato che la torre fatta di mani la montagna del deserto della strega in cima ha una mano che è una mano di fatima che è una mano che simboleggia la protezione la salvaguardia così come il buddha che punta verso la mano di fatima stanno mescolando tra loro delle culture che non hanno nulla a che fare sono effettivamente culture molto separate tra loro e tuttora mi sorprende mi sorprende enormemente il fatto che siano riusciti inserire tutte quante queste culture senza che tu percepisca che qualcosa non va che ci sono simboli che non non corrispondono tra loro che non non si sarebbero mai incontrati avete notato tutte le scritte in italiano in questa scena vero come il tempio del rubino o più avanti questo il tuo deserto ci siamo quasi ci sono davvero in ogni lingua proprio perché il film era stato pensato per essere esportato e credo che Richard Williams proprio come faceva Disney avesse pensato da subito a tutti i vari doppiaggi che potevano esserci in tutto il mondo ecco qui il tempio del rubino mio dio pieno discrete credo che Richard Williams tenesse particolarmente a rendere fruibile il film per chiunque tant'è vero che sinceramente nonostante la presenza di Vincent Price sinceramente l'interpretazione di questo film e il suo doppiaggio erano più facili da fare proprio perché non c'era grossa difficoltà nella recitazione il film non ha nessuna grande pretesa proprio perché è qualcosa di visualmente meraviglioso davvero visualmente arrivederci a presto l'avete notato ovvero ci sono scritte in italiano ovunque in quella scena è una cosa che adoro anche perché sono le uniche scritte di tutto quanto il film non ci sono scritte nemmeno in arabo per tutte le altre scene mi dispiace che queste animazioni non siano state fatte appunto da Richard ma siano arrivino dalla versione censurata di Calvert in particolare però le scene soprattutto inerenti alla principessa e al ciabattino piuttosto che quelle di quelle del ladro qualcuno potrebbe anche criticare il fatto che le gag del ladro si somigliano tra loro ma vi rendete conto che nella versione censurata le hanno pure ripetute come il ladro che si lancia nel vuoto che viene fatto due volte pensate al lavoro per disegnare ognuna di queste mani con una forma specifica che le rendesse meno simili a mani di quanto insomma pensate a tutti quelli che potrebbero dire io le mani non le so fare perché sono troppo difficili pensate a disegnare questa montagna pensate a essere l'animatore che dice no io non faccio personaggi perché non so fare le mani le mani di zigzag non le saprei mai fare e ti dicono fai questa montagna dai un bel dipinto a olio e cera dai divertitici è una cosetta a pastelli va bene va bene come la faccio la montagna fatta di mani tantissime mani con cinque dita e tutto il resto credo che qualcuno qui abbia pianto questa scena con la magnifica accettazione al Cernabog di fantasia è meravigliosa senza dubbio meravigliosa così come è meravigliosa la mano che si chiude trasformandosi in una specie di grotta e credo che fosse voron cioè fosse fatto di proposito rendere questa scena così epica per poi entrare in conflitto con la scena successiva che invece è estremamente comica così epica con appunto la notte sul monte fatto che suona con il massimo della sua potenza lui che apre le braccia e si lancia per volare ovviamente non ha senso che lui possa volare con delle foglie attaccate alle braccia ma è divertentissimo il fatto che lui invece ci riesca perché lui è il ladro lui deve sempre avere colpe di fortuna per riuscire ad avvicinarsi a quello che vuole ottenere per poi non ottenerlo e spero che abbiate notato anche che per tutto il film la vegetazione è fatta in uno stile che ricorda non solo le miniature arabesche ma anche Botticelli e i suoi quadri in realtà in tutto questo film ci sono enormi valori artistici insomma a parte le piccole gag con la canzone dell'aeronautica americana ma effettivamente tantissime scelte arrivano dalla grande arte del passato come prima ha nominato Yambanec qui dentro potete riconoscere tantissimi grandi artisti anche solo le guardie tutte alte uguali potrebbe essere un riferimento a Giotto in generale all'arte medievale con i personaggi socefali e il lavoro che ha fatto Richard Williams è effettivamente di un valore artistico che è pazzesco lo studio anche solo del design del ladro mettergli dargli una forma così fine che entra in contrasto con un vestito così largo le inserire battute terrificanti come un grosso uccello che lo dice anche in originale non vi preoccupate non è una mia invenzione così come il sottolineare la mano di Fatima mettendoci due pollici anziché mettere un mignolo non so se lo sapete ma sebbene qui ce l'abbia il mignolo in varie rappresentazioni la mano di Fatima ha due pollici e la strega è uno dei miei personaggi preferiti è divertentissima serve ogni tanto nel film che ci sia un personaggio che magari ha un una sequenza tutta quanta sua che quindi diventa una novità e racconta la sua piccola storia per i suoi per i suoi dieci minuti e qui la strega è magnifica è magnifica non solo è molto realistica in quanto anziana signora non solo è affascinante in quanto strega perché ti viene voglia di vederla ma è anche quella con le sequenze più divertenti perché qui essendo una strega ognuno poteva immaginarsela come voleva poteva essere fatta con la pelle verde e un cappello da strega puntito in testa in stile mago di Oz poteva anche essere fatta come una sorta di magico oracolo vestita da che ne so chiromante e invece no l'hanno trasformata in una sorta di pazza anziana che lavora maglia drogata che usa uno stetoscopio per capire chi abbia un valore con le palpebre in viola così le si nota di più e questo sguardo che sembra uscito da una maschera orientale o africana che non è chiaro che cosa dovrebbe rappresentare con questi seni cadenti che sballonzolano a destra e a sinistra senza che sia chiaro se siano davvero seni oppure no perché appunto sono legati dietro la schiena e quindi sono seni così lunghi da essere legati dietro la schiena oppure no tra l'altro in varie scene ha degli aspetti leggermente diversi in alcuni casi l'ha appesa al collo come se fossero una sorta di scialle in altre scene invece sono evidentemente dei seni così come il fatto che lei si faccia pagare è divertentissimo ho apprezzato molto anche Chiara che è riuscita a mantenere un sacco di suoni e cigoli e gracchiate che lei fa in lingua originale non era facile poter mantenere un personaggio così assurdo imprevedibile e comico eppure c'è riuscita c'è riuscita tra l'altro la camminata della strega è estremamente particolare è stata mantenuta all'interno del libro di Richard Williams di Animators Survivor Kit oh mio dio quanto lo sto mangiando male non riesco a pronunciare le parole o parlare a lungo è sempre complicato in ogni caso nel libro di Richard Williams lui fa un esempio di camminata usando proprio la camminata della strega anche perché nel suo libro ha un centinaio di pagine solo per parlare di come devi far camminare un personaggio fate caso la sputtacchiera che dopo che ci ha sputato sparisce è probabilmente l'unica magia che fa la strega probabilmente l'unica che è davvero una magia perché per il resto lei sta lì sopra a quello che potrebbe essere una sorta di esalazione di metano a cercare di sniffarla chiedendo ai mistici fumi se per favore può avere una sorta di visione tra l'altro qui c'è un piccolo errore di doppiaggio perché in realtà il testo diceva mistici fumi ma forse per labiale Chiara ha scelto di farle dire mistici fiumi che sì non ha senso ma in mezzo a tutte le cose assurde che fa la strega va benissimo così quella cesta è una delle cose più incredibili da animare vi rendete conto di quanto fosse complicato perché i capelli sì non ci sono problemi con i capelli perché se si crea una linea in più non dà fastidio ma la cesta la cesta poteva rovinare tutto in questa scena in cui lei si sta facendo di metano probabilmente guardate sul lato destro dello schermo noterete che a un certo punto il fumo crea il simbolo del vietato fumare è un easter egg meraviglioso e divertentissimo ed ecco che lei tira fuori il cerino e subito quello che io ho interpretato come metanomo qualsiasi cosa sia vabbè la ammazza probabilmente lei ogni volta che fanno profezia muore è una sorta di regola lei si fa pagare fa la profezia e muore è uno dei motivi principali per cui ho chiamato tacco tacco il fatto che lei facesse il gioco del attacco attacco ma apprezzo moltissimo anche quello che questo film cerca di spiegare ai bambini ovvero fai ciò che puoi con ciò che hai proprio per dimostrare che tu puoi ottenere tutto quello che vuoi se usi effettivamente ciò che hai che è una banale morale del cavolo ma effettivamente non è mai stata ripresa dalla Disney sì ok ha fatto le sue burn necessities una di queste mani è un dito medio questa eccola quella mano era un dito medio e la becchiata Adriano quando ho fatto rivedere il film ai miei amici io stavo morendo dalle risate cioè è una battuta così scontata e così immatura che non me lo sarei mai aspettato e beh il film il film mantiene il suo enorme valore proprio grazie grazie a queste scene così immature mi fa morire il modo in cui il campo degli occhi soli sia semplicemente una tenda dopo tutto ecco qui qui abbiamo un'altra scena che era densa di battutine di sottofondo che purtroppo creando l'effetto della folla si perde servono tanti personaggi per poter creare una folla altrimenti non sembra credibile e io non volevo usare a sproposito delle vocette preimpostate da internet nonostante Adobe nemmeno abbia messo molto a disposizione fate caso la scritta questo è il tuo deserto c'è scritto anche in italiano sì sì c'è scritto tienilo pulito mantienilo pulito ecco questa è la scena famosa della bestemmia che in realtà non c'è però lo sembra e era molto divertente visto che non ci sono molte altre opzioni per fare una cosa del genere inserire un'imprecazione che non è un'imprecazione che è una sorta di mezza bestemmia e è bello vedere sia le donne che fanno da tavolino cioè non è bello nel senso è una cosa orribile ma è affascinante il livello di animazione vedere le donne che fanno sia da tavolino che commentano quello che succede che anche se non le notate stanno avendo espressioni facciali sono stufe di questa situazione e stanno anche sullo sfondo con dei segni particolarmente evidenti vi ricordo che è lo stesso uomo che ha animato Jessica Rabbit dopo tutto Daniele Ambra è stato formidabile un doppiatore pazzesco davvero pazzesco pensate che io non sono una persona sedentaria per nulla e sono così poco abituato a starmene seduto che facendo questo film è venuta una condizione medica tipica di chi sta troppo fermo seduto in genere viene a chi va a cavallo però sì devo smettere di andare dal medico per colpa di questo film beh ormai è finito quindi direi che va tutto bene avete notato che ha un paio di cioè non sono davvero tutte identiche queste punte alcune di queste hanno delle piccole differenze come un pattern leggermente diverso sul bastone o la presenza di qualche chiodo tutta questa sequenza è incredibile ed è la famosa sequenza con prospettive assurde realizzata sotto richiesta del principe arabo dove ci sono tra l'altro tuoni e fulmini quindi una difficoltà extra per la colorazione che non resta identica ma appunto ha dei flash improvvisi così come assurdo ogni singolo personaggio così come assurda la macchina che è anche ricoperta dalla pioggia cioè mamma mia capite perché non hanno animato una scena come questa anche se non credo che fossero questi i colori definitivi credo che la macchina fosse pensata per essere un po' più in bianco e nero però beh questo è quel che sia questo è quel che sia mi dispiace molto che in queste sequenze ce ne siano molte che poi sono state effettivamente eliminate dal film e che quindi non sono più visibili in nessun caso in nessuna occasione perché per quanto il film sia fantastico e straordinario sotto molti punti di vista sapere che alterna così tante scene ben animate a scene che non hanno mai animato perché effettivamente allungavano il brodo beh ricorda in continuazione quanto non si credesse in questo progetto e quanto fosse così innovativo da aver bisogno effettivamente di censure per essere adattato al pubblico certamente sono sicuro che non ci saranno molte persone che non hanno un minimo di passione per l'arte o di spirito artistico che riusciranno ad apprezzare quest'opera avete notato che gli elefanti gli elefanti degli occhi soli che ce ne sono parecchi in giro per la macchina non hanno le orecchie è un grosso simbolo di sottomissione si tagliavano le orecchie agli animali per assicurarsi che rispondessero agli ordini lo si fa tuttora con la coda dei cani da caccia ma in generale è un forte simbolo di tutto quello che gli elefanti hanno dovuto subire nel corso dell'esistenza dell'uomo è terrificante pensare allo sfruttamento degli animali e a quanto sia stato orribile nel corso di tutto questo secolo in particolare pensate che questo film è stato pubblicato in un periodo in cui esistevano yippie ora ormai è un passato però il bambino meraviglioso il bambino che offre il suo giocattolo a Renaud per aiutarlo perché Renaud chiede aiutatemi ad aiutarla e il bambino poverino ci resta male e da tutto quello che ha il giocattolo che è in mano anche se è inutile scena dolcissima tanto quanto è divertente Renaud che grida a un bambino chiedendo aiuto proprio a dimostrare che lui è perfettamente in grado di difendere il suo popolo ma al tempo stesso si soffie in pericolo così come il suo popolo si dispera si dispera da morire così come si disperano anche i briganti che ovviamente fanno parte della città d'oro è affascinante vedere Tacco cambiare colore nel corso del film mi dispiace che lo faccia in modo leggermente troppo improvviso cambia colore da una scena all'altra ma cambia colore perché lui ha passato la sua vita a lavorare in bottega come ho detto all'inizio del film non potevano non abbronzarsi uscendone finalmente e beh avete notato che i briganti hanno corso tutta la notte e ora è mattina presto non sono molti i film che riescono a iniziare cioè riescono a finire la mattina piuttosto che la sera o in una giornata qualsiasi in un momento non specificato e gli occhi azzurri del ciabattino sono tra le cose più belle di questo film e queste invece sono le scene più rovinate le scene più irrecuperabili e della qualità più bassa un vero peccato perché poteva essere qualcosa di straordinario e invece nemmeno si capisce che succede con precisione e poi c'è quella scena in cui Tacco realizza il gioco di parole dell'attacco e dovrà usare un chiodo o un tacchetto da scarpa interpretato come volete uno spillo per risolvere tutti quanti i suoi problemi quanto ha rischiato avete fatto caso ovvero ai calzini del ciabattino questa incredibile coincidenza è un escamotage che non viene usato quasi mai nella narrazione perché è molto molto improbabile e ci vuole molta preparazione nel film per poterlo rendere credibile e straordinariamente Richard Williams è riuscito a renderlo credibile non fa poi così strano vedere questa enorme quantità di colpi di fortuna dopo tutte i colpi di sfortuna che ci sono stati nella prima parte del film su questa fungiale tra l'altro c'è il simbolo di zigzag in realtà su tutti gli oggetti di zigzag c'è il simbolo di zigzag le varie z non ho mai capito se questi dovessero essere o meno davvero cadono come pedine da domino è divertente però alcuni di questi non ho capito se siano soldati o se fossero oggetti di scena di qualche tipo avete capito quanto sia incredibile quello che succede in queste scene dove gli occhi soli stanno preparando l'attacco non sono ancora in posizione e per una serie di coincidenze sono tutti quanti nell'esatta posizione in cui rischiano di morire come in questo caso con l'olio bollente meraviglioso meraviglioso e le scene di morte in questi momenti sono sottili non ti lasciano percepire una violenza inutile o un'esaltazione appunto della morte che viene spesso spettacolarizzata soprattutto nei film di Hollywood di oggi e questo film ha fatto parte di tantissimi di tantissime correnti che cercavano di essere in una direzione nuova in particolare la UPA informatevi un po' sulla storia dell'animazione ci sono cose incredibili che si nascondono soprattutto dietro un film come questo dove scene che possono sembrare molto semplici in realtà sono complicatissime da animare hanno tanti di quei livelli con dei movimenti così complessi che beh chiunque studia animazione finisce per studiare soprattutto queste sequenze che sono pazzesche semplicemente pazzesche e qualcuno di sicuro lo chiederà noterete che quando le animazioni non sono complete spesso capita di vedere delle croci segnate sullo schermo che servono visto che le croci restano lì fisse a capire di quanto si è spostato il tuo personaggio in uno spazio che magari è troppo vuoto o a indicare la posizione di qualcosa che ancora non è disegnato in modo che tu riesci a immaginare in quale punto si troverà e equilibrare al meglio il disegno e in alto a destra guardatele guardatele qui notate che gli elefanti non hanno le orecchie all'interno del film ci sono tantissimi momenti in cui l'animazione in completa ti lascia vedere in alto a destra tutta una serie di piccoli appunti che vengono presi dagli animatori per calcolare il timing and spacing della scena e vi suggerisco di prenderlo il libro sull'animazione di Animator su survival kit se davvero vi interessa l'animazione perché è denso denso di informazioni io mi aspettavo che sarebbe stato un libro dove sì quella avrebbe detto qualcosina di interessante sulla sua vita poi quella ha qualche informazione sull'animazione invece no è estremamente professionale denso di cose che davvero servono il libro inizia spiegandoti per esempio come compilare il foglio di preparazione per conteggiare i frame in base al fatto che l'animazione sia on once o on two ovvero che abbia 12 o 24 intercalari oh giusto qualcuno voleva chiedere probabilmente che cosa siano gli intercalari e la risposta è quando un animatore fa un film non fa tutti i disegni della sua animazione non li fa tutti perché perché non è necessario che li faccia proprio l'animatore capo perché una persona che si occupa degli intercalari non prende molte decisioni nonostante ciò è Williams il primo a dire guardate che chi fa intercalari non è meno importante c'è un animatore che fa i keyframe i frame chiave ovvero quelli più importanti per esempio se una persona sta cadendo i frame chiave sono quello in cui sta per cadere in ciampa e quello in cui atterra non serve tutto il lato in cui cade così come in un pendolo dove appunto i keyframe sono gli estremi del pendolo a destra a sinistra e forse quello al centro mentre gli in-betweeners ovvero le persone e gli animatori che si devono occupare degli intercalari si occupano di creare tutti quanti i frame che creano un passaggio da una scena all'altra in modo che l'animazione sia fluida grazie al lavoro di persone che magari non sarebbero state particolarmente in grado di creare inquadrature animazioni o design particolari design troppo professionali o comunque gente giovane che però non è meno importante degli animatori principali perché se l'in-betweener non fa un buon lavoro esce una schifezza sempre nel libro di Richard Williams racconta di come un suo caro amico gli parlò di quanto ci fosse questo animatore che non aveva capito nulla di questo passaggio all'interno di Spirit Cavallo Selvaggio e aveva fatto appunto gli intercalari degli occhi dei cavalli facendo poca attenzione a quello che davvero aveva fatto per creare un intercalare e dimenticandosi di mantenere gli occhi esattamente nello stesso punto che quindi si muovevano rispetto alla posizione che dovevano avere sul volto del cavallo e così gli estremi non vengono fatti solamente per i movimenti dei personaggi ma per qualsiasi altra cosa che può avere degli estremi quindi se per esempio gli estremi per il personaggio sono tre magari ce ne sono altri tre per il suo vestito perché si muove con un movimento diverso che è legato magari al vento o ai suoi spostamenti metà di queste macchine sono inutili inutili loro hanno all'interno di questa macchina di morte all'interno di questa macchina di morte loro hanno un gigantesco ferro da stiro un bollitore per il tè una forbice gigante casomai dovessero battere una carta gigante sperando che gli altri non abbiano un sasso gigante e l'assurdità di questa macchina giustifica ogni cosa giustifica i colori così rossi giustifica il fondale così nero giustifica le assurdità che capitano sullo schermo al ladro in un film è molto molto importante riuscire a rendere tutto credibile per lo spettatore è il lavoro del regista il compito del regista è quello di fare in modo che ciò che vedi sia credibile e infatti questo film ha un esercizio di regia pazzesco proprio perché riesce a rendere credibili delle scene che in realtà non dovrebbero esserle come questo fumo che non è assolutamente credibile è piattissimo è teatrale è finto eppure grazie alla regia di Williams riesce ad essere non solo credibile ma anche ipnotico da vedere così come tutto quello che succede nella macchina di morte dove il ladro ne combina di tutti i colori e resta credibile non perché non sia impossibile quello che succede non perché sia facile immaginare che questi abbiano tra le loro macchine mortali una forbice gigante o ancora peggio uno schiacciamosche gigante ma perché è la regia che riesce a inserire tutto quanto in un contesto che giustifica le assurdità che state vedendo un contesto in cui è possibile che le donne per gli occhi soli siano davvero solo oggetti e non ci siano bambini avete notato che tra gli occhi soli non ci sono donne o bambini vero? e sono tutti quanti soldati tutti quanti identici occhio solo dove capisci che occhio solo non è uno di questi semplicemente per come si muove piuttosto che per il suo aspetto perché è identico e alla fine vedere così tanti occhi soli morire in modo drastico è anche un modo per far percepire la morte del vero occhio solo più e più volte il valore artistico di questo film si nota proprio grazie a tante scelte di questo tipo che sono di una qualità tecnica incredibile in un film la qualità tecnica il fare per bene la regia o la sceneggiatura non sono cose che vanno in secondo piano perché mi è capitato a volte di parlare con qualcuno che diceva sì ok è bello che all'interno di un film tu guardi la tecnica ma la tecnica non è tutto la tecnica è tutto perché tutto quello che fai tutto quello che vedi ha una tecnica questa è un'altra delle scene più divertenti dove ci sono un sacco di battute di nuovo che vanno perdute proprio perché ci sono tanti personaggi poi uncino ha un uncino sul piede perché come fa a camminare nella sabbia con un uncino sul piede e anche il modo in cui sono martoriati avete notato che alcuni di loro non hanno parti del corpo o addirittura non hanno un occhio e semplicemente lasciano il buco non sono solamente i denti a mancare chissà quante scorrivande hanno fatto e quanto quella tenia che continua a seguirli sia stata in tutte e quante i loro intestini e la tromba la tromba è stato un lavoro magnifico di Francesco Severo De Angelis perché l'abbiamo dovuta recuperare da zero purtroppo era irrecuperabile dal film originale e ricostruirla è stata divertentissima è uscita quasi identica e qui beh cosa c'è di più bello che vedi Rocchio Solo morire con qualcosa che in realtà è il fetish di qualcun altro ovvero con queste donne che si siedono su di lui e lo uccidono con il loro peso scusatemi in quanto omosessuale trovo la cosa aberrante devastante a me non piacerebbe poi se piace a voi va bene va bene non vi preoccupate dicevo dicevo all'interno di un film la tecnica è tutto perché tutto ha una tecnica c'è una tecnica per la recitazione e quando una persona recita bene è perché sta usando bene la tecnica della recitazione così come le inquadrature hanno la tecnica delle inquadrature ma lo scopo è il generare un'impressione un'emozione condizionare la percezione che avete di quello che avete davanti una inquadratura come quelle che vedete qui permettono di trovare tutto quanto più divertente perché se fossero più drammatiche ci farebbero percepire queste scene come se fossero spaventose quando in realtà non lo sono in realtà ti aspetti che prima o poi il ladro venga colpito e non succede mai ti creano un'attenzione continua non perché hai paura per il ladro ma perché non vedi l'ora di vedere che cacchio succede ora che cacchio succede adesso poi sì ovviamente la scena è molto lunga quindi se non sei abituato a film indipendenti o magari a film particolarmente vecchi potresti trovarla noiosa così come troveresti noioso Metropolis con le sue 4 ore e vedi un film completamente muto ma in realtà è uno dei punti forti in realtà è qualcosa che rende straordinario questo film mette da parte l'intrattenimento per dimostrare che la sua tecnica basta per intrattenere perché intrattiene perché il ladro è divertente grazie alla tecnica perché i personaggi come Tacco sono adorabili grazie alla tecnica perché la principessa Yam Yam diventa un'icona di bellezza grazie alla tecnica non sottovalutate mai la tecnica perché per quanto vada abbastanza di moda dire che l'importante è quello che è dentro non quello che è fuori un film non è una persona e non va valutato in base a quello che ha dentro perché quello che un film ha dentro in realtà è esattamente ciò che ha fuori è arte è un'arte figurativa è qualcosa di estetico visivo e deve essere magnifico per ciò che vedi non per ciò che ha dentro non per la profondità del messaggio che vuole mandare perché a questo punto un film comico deve essere per forza terrificante un film horror è terrificante mentre un film drammatico deve essere per forza magnifico invece no invece no il valore di un'opera d'arte sta proprio nel suo lato estetico che ha qualcosa di molto più profondo molto più intenso di quello che oh mio dio è fantastico che Zig Zag ora muoia primo a causa delle sue stesse bugie per i coccodrilli ma secondo per il fatto di essere finito sullo stesso chiodo che ha distrutto la macchina di morte che è lo stesso chiodo probabilmente su cui lui ha calpestato che lui ha calpestato quando ha avuto a che fare con Tacco vi rendete conto che se Zig Zag non avesse deciso di arrestare il ciabattino tutto quanto il film non sarebbe andato in questa direzione sarebbero probabilmente morti tutti cioè vi rendete conto che se il ciabattino non ci fosse stato nulla sarebbe andato in questa direzione incredibile incredibile anche se la più assurda di tutte è proprio quest'acqua che probabilmente è l'unico secchiello d'acqua di tutto il film che finisce proprio sul ladro quando prende fuoco le scene in cui Fido uccide Zig Zag sono state censurate in tutte quante le versioni che non siano questa è un vero peccato perché in realtà è un ottimo finale davvero ottimo ed è spaventoso in modo sensato per i bambini per mostrare una morte che effettivamente è terrificante senza che dia davvero fastidio senza che ci sono immagini davvero forti è quasi simbolica è come se fosse minimalista come se l'avesse disegnata Malevich la tecnica in ogni caso ricordate che è tutto proprio perché un film è qualcosa che vedi e che ascolti così come qualsiasi altra opera d'arte un quadro è ciò che vedi e in ciò che vedi c'è qualcosa di profondo è molto probabile che tutto quello che vedete qui sia qualcosa a cui Richard Williams teneva una rappresentazione di un suo sogno da piccolo di un gioco che ha fatto quando aveva otto anni un suo amico magari per fare l'aspetto del ciabattino il modo in cui si muove si è basato su un suo ex compagno di scuola magari per fare l'aspetto della principessa Yam Yam si è basato su una donna che lui ha amato nel lato estetico c'è davvero qualcosa di profondo e intenso anche perché il fatto che un personaggio funzioni è dovuto proprio al fatto che tu abbia fatto quel personaggio o quella scena quella inquadratura con tanto amore e c'è davvero tanto tanto amore all'interno di questo film soprattutto nei confronti dell'animazione il ladro che finalmente rinuncia alle palle dice vabbè andate tutti a quel paese dopo tutto quello che ho passato non me ne frega più niente di ste palle fateci quello che volete ah magnifico magnifico e beh magnifico anche la forza del destino questo brano di Verdi se non sbaglio io non mi intendo di musica me la cavo meglio con l'arte perdonatemi che rende tutto quanto più trionfale per poi arrivare a questo finale molto semplice in cui ci sono tutti i personaggi in quella sala ci sono tutti i briganti li avete notati è vero c'è la balia ci sono tutti quanti per poi dare questo magnifico premio al ciabattino di poter sposare la principessa Yam Yam so bene che la loro relazione non è che sia stata una grande storia d'amore però è un film che racconta tutto in modo simbolico assurdo e sinceramente se avesse cercato di approfondire la storia d'amore sarebbe anche stonato rispetto a un film così assurdo avrebbe richiesto qualcosa di più credibile anche a livello visivo e questo io ti amo di Marco Merrino ha bisogno di un ringraziamento incredibile qualcuno magari si chiederà perché ho fatto doppiare il protagonista a una persona che non è un doppiatore beh in originale l'intenzione era quella di far doppiare il ciabattino a Sean Connery poi vabbè non si presenta in sala però l'intenzione era quella e volevo mantenere questa intenzione ovvero quella di metterci una guest star che aveva una voce che non c'entrava nulla con quella del ciabattino e per un io ti amo sinceramente andava benissimo Marco Merrino dopo tutto avevo anch'io bisogno di attirare qualche pubblico sul canale anche se beh vedremo come andrà il fatto che il ladro rubi il film è quasi triste visto il modo in cui beh il film è stato trattato e rubato finendo nelle mani di Weinstein e essendo impedito a Richard Williams di completarlo per tantissimo tempo finché non è uscito a Moment in Time al MoMA non c'è stata soddisfazione per il povero Richard Williams ora parlando un po' dei titoli di coda parlando un po' dei titoli di coda ognuna di queste persone ha fatto un lavoro pazzesco Marco Merrino è stato gentilissimo si è interessato a ogni singola cosa che ho detto è stato davvero incredibile io non speravo nemmeno che lui potesse anche solo non ignorarmi e invece è stato un amore davvero un amore così come la principessa Valentina Bonacoscia che non solo ha doppiato in una situazione in cui era estremamente in difficoltà proprio a livello fisico eppure si è impegnata molto o anche Sergio Garbarino Zig Zag che ha avuto l'enorme compito di sostituire Vincent Price e nessuno è Vincent Price nessuno sarebbe mai stato all'altezza ma lui è riuscito a trasformare le rime di Zig Zag in qualcosa che non sembrasse il Dottor Seuss oppure un banalissimo poesia di Natale è molto spontaneo e non è una cosa da poco non è una cosa da poco così come la strega Ruby Rust che è riuscita ad essere divertentissima era facile fare una strega dove non si capisse quello che diceva e invece non solo si capisce perfettamente ma è stata magnifica infatti io l'ho scelta dopo averla sentita doppiare Spinella che mi ha fatto dire wow è stata incredibile ovviamente non la doppia nel film non sto parlando di un suo fan dub poi occhio solo e spietuto di Francesco Savero De Angelis sono stati magnifici io speravo tanto che lui mi dicesse di sì per poi scoprire che era un fan del film e tuttora essere continuamente in contatto con lui perché è fantastico è fantastico un esperto e una gran persona così come Renod Daniele Ambra che aveva bisogno di un'opportunità perché quel ragazzo è incredibile sappiate che farà strada Daniele Ambra un giorno diventerà famosa avrà una pagina su wikipedia io vi posso assicurare che Daniele Ambra farà strada perché penso che sia un doppiatore pazzesco non solo era il più giovane di tutto il gruppo e ha fatto il personaggio più anziano Renod ma ha fatto un lavoro incredibile penso che il suo doppiaggio fosse perfetto e mi dispiace solo che il suo microfono fosse il peggiore poi Sara Tessera la balia che non solo è stata gentilissima nel proporsi perché ero disperatamente alla ricerca di una voce per la balia una delle ultimissime voci che ho fatto fare lei è stata dolcissima creando un personaggio che beh si ama poi Guli Leonardo Loggia allora io ho fatto doppiare i briganti tra gli ultimissimi personaggi e ero preoccupatissimo per Guli perché doveva interagire con con spietuto per pochissime battute ma doveva anche essere non solo diverso da lui ma abbastanza simile da sembrare un brigante non un ragazzino che faceva una voce e Leonardo Loggia ci è riuscito ci è riuscito così anche Uncino ovvero Shadow Grimm Samuel Torrigiani Uncino è stato divertentissimo quando fai per urlare un personaggio quando deve gridare che sia il re Nod che deve gridare le palle le palle che sia Zig Zag che il pesto è un chiodo o che sia appunto Uncino che deve gridare la carovana una carovana in arrivo uno dei grossi problemi è che la gente abbassa la voce come ho fatto io ora per cercare di non disturbare qualcun altro o per non strozzarsi e lui è riuscito a gridare in modo magistrale io so che spesso i doppiatori vengono sgamati per il fatto che non siano doppiatori non tanto per la loro musicalità o per la loro vera e propria addizione ma per il fatto di non essere in grado di urlare non essere capaci Alberto Pagnotta è riuscito a creare quattro sgherri di zigzag che sono meno fastidiosi dell'originale ma altrettanto magnifici divertenti davvero funzionavano un sacco un sacco e beh Triangolo Scaleno è questo ragazzo che ho scoperto su Instagram che sa cantare decisamente e sta cercando di fare cose molto originali uno dei suoi piani in futuro magari di creare qualcosa che sia abbastanza circense e che abbia a che fare con il mondo delle maschere dello spettacolo e vedremo se ce la farà intanto lui ha doppiato tutti i cori maschili quindi gli eunuchi i quattro uomini neri che cantano come dei castrati così come nano la voce che creda aprite per i ricchi polo poni che nella sceneggiatura doveva avere un sacco di scene in più ma poi nel film non le ha avute o anche le guardie che catturano il ladro lui è stato disponibilissimo simpaticissimo anzi credo che si sia appassionato al film poi life is a work of art allora lui l'ho conosciuto per il suo canale youtube quasi per caso e quando ho visto che aveva una voce che era identica a quella del doppiatore originale del soldato ferito ho capito che dovevo insistere e in realtà si è dimostrato disponibile da subito anche se non sapeva nulla della storia dietro al film ma ho già parlato abbastanza di quanto sia stato bravo poi abbiamo luna racini di zes luna che con i suoi cori femminili è stata magnifica quel non temer non temer zigzaghi il gran visire qui era difficilissimo da portare cantato perché quel testo non era adatto ad essere cantato non era abbastanza musicale lei è riuscita non solo a renderlo musicale ma addirittura godibile da ascoltare e ringraziamo anche il suo ragazzo Tommaso che si è occupato invece di restaurare quella parte di audio oltre che equalizzare dinamizzare tutto il suo doppiaggio sono effettivamente come posso dirlo nel modo migliore una coppia magnifica perché sono riuscita a occuparsi dell'audio molto meglio di quanto io potessi mai fare ovviamente però poi abbiamo i brusii con Andrea Limonta Andrea De Venuto e Cristian Calisciadi con Andrea De Venuto avevo già collaborato ma posso dire che anche con gli altri due sono stati magnifici io devo ringraziare tutti in particolare Richard Williams davvero grazie a tutti grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti